Ragazzoni bentornati su The Binding of Isaac, Rebirth, come avevo anticipato inizieremo a giocare sul profilo principale E si ho fatto un po' di prove di personaggi, ho perso due volte e ho deciso di iniziare ad usarne altre Per esempio adesso inizieremo con Judas, che è uno dei personaggi con l'attacco base più alto Non troviamo il mouse, però inizia con un solo cuore, però diciamo per iniziare è il meglio Troviamo già la syring che ci dà il poison touch, cioè quando ci tocca non la avveleniamo Ma è abbastanza inutile, dato che non possiamo farci toccare perché abbiamo pochissima vita E questo è pericoloso perché spara in tutti i quattro punti cardinali E speriamo di trovare il primo possibile chiavi e il bonus per... qualche bonus di vita Comunque, inizieranno a cambiare le cose semplicemente perché non ci saranno più episodi di The Binding of Isaac Ecco già la chiave, ho iniziato facendo episodi ma adesso si inizierà a fare le run Uh, questo è un problema, questo è un problema, eccolo là Per fortuna ci siamo passati così vicini da avvelenarlo, ma quella mosca Senza però perdere vita, il che è abbastanza bello Un'altra chiave, non andiamo là perché non abbiamo soldi Ci servono soldi per andare a comprare cose, se non ho almeno 15 non spreco le chiavi Comunque, come funzionano le run? Semplicemente ogni run avrà un numero diverso, run numero 1 o numero 2 E inizieremo a fare tagli intelligenti Uh, quello verde, non mi ricordo che bonus aveva Se non sbaglio, quelli verdognoli, che penso siano questi, utilizziamo lo strumento bonus di questo personaggio Che ci permette di fare più danni Dovrebbero avere più vita, ci hanno già colpito una volta No, invece sono quelli che sparano Sparano questi E se ci lasciamo beccare un'altra volta siamo fregati perché Possiamo farci colpire soltanto una volta con questo personaggio E troviamo le pillole della mamma Beh, c'era la cacca, non l'avevo vista Pillole della mamma Troviamo qualche cosa di utile Questo è Aioa Wizard che spara in diagonale per qualche piano Speed Down che non ci serve a nulla Health Up che ci serviva E Range Up Quindi abbiamo meno velocità però almeno siamo più veloci, abbiamo più vita Che era la cosa che ci interessava principalmente con questo personaggio Perché andare in giro con un cuore è un po' troppo difficile E comunque ogni run sarà divisa In episodi 1A, 1B, 1C E saranno divisi, no ce l'abbiamo ancora questo qua È molto fastidioso perché non ci permette di mirare Non ci permette di mirare come vogliamo noi E diminuisce il free rate di molto Di molto, di molto, di molto Sì, non riesco a beccare niente con sto schifo di pillola Ecco qua Non riesco a beccare niente Eccola, è finito per fortuna l'effetto È a secondi mi pare Non ha piani E approfittiamo Approfittiamo dell'attacco che ha questo personaggio Per chi non lo sapesse ogni personaggio Inizia con un attacco base A seconda della statistica che ha Può essere 1, 2, 3 Prendiamo quella cassa E 1, 2, 3 E più attacco ha più danni fa in generale Uh, quanti soldi Quanti soldi Troppi soldi E comunque sì, sto trovando una cosa fastidiosa Il fatto che Quando voglio registrare Non ho il naso tappato Quando inizio a registrare Mi si tappa il naso perché parlo E troppe cose qui in giro Troppi ragni Odio i ragni Almeno è soltanto uno di questi Con le gambe lunghe Che spavano i ragni Quando sono 4 È una cosa bruttissima È una cosa Fastidiosa Fastidioso come io Che spingo fuori il muco con il naso Si fa un po' schifo da dire Fa abbastanza schifo da dire E fanno anche abbastanza schifo Queste cose di Sì, queste cose di carne Sono cosciotti Di roba Perché non ti permettono Di andare accanto A colpirli tranquillamente Perché ti sparano Dove vi avvicini Cos'è questo? Health down No No Spoon bender Colpi a inseguitore Potrebbe essere utile questo È molto utile Perché guardate i colpi Inseguono il nemico Ed è molto utile Non poco Molto Non forse Di sicuro è utile Soprattutto quando avremo Un fire rate molto alto Una E soprattutto se otterremo La brimstone Che è una cosa bellissima Che vi farò vedere Nel momento in cui la troveremo E abbiamo perso mezzo cuore Abbiamo perso mezzo cuore E mo ti colpisco tutto Ti colpisco tutto Vedete i colpi Che inseguono il nemico Sempre Sono un po' stupidi Quando non Quando non miri bene Quando hai poco fire rate Perché vanno un po' Dove gli pare Però Se troviamo altri bonus Potrebbero essere molto Ma molto Ma molto Ma molto Ma molto Utili E abbiamo Ho capito Utilizziamo il buco belial Perché altrimenti qua Non ne usciamo Perché Fanno spawnare i cosi piccolini Che Gli parano Gli parano Dai colpi Uh fa saltare una regola No Nelle pot A volte Uh potevamo prendere il cuore Nero Se avessimo qualcosa Per fluttuare In queste cose rotte Ogni tanto Anzi spesso ci sono monetine E sono utili le monetine Molto utili le monetine E qui possiamo andare A prendere Cos'è quest'altro Lockdown Che bello Tante cose in meno Possiamo andare a comprare Il cuore I cuori Principalmente Perché non possiamo prendere altro Questo cosa fa Paralysis Vabbè Funziona Ti paralizza per un poco Prendiamo Il soul protector Il cuore blu Che è molto utile Molto utile Sono più utili i contenitori Di cuori rossi Però Sempre meglio il soul protector Che un cuore in più Per recuperare vita Abbiamo Contropin Stiamo incontrando Avversari molto classici In questa run E dico molto classici Semplicemente perché Di solito Possono apparire i cavalieri I cavalieri dell'apocalisse Quando hai Una run avanzata Diciamo Quando hai fatto molte partite Perché appaiono Dopo un tot di partite Dopo aver fatto un tot di cose Io ormai non mi ricordo Più come si sbloccano tutte le cose Comunque su questo account Ho sbloccato Molte versioni alternative Di boss I boss campioni Che sono boss Con colori leggermente diversi Che hanno più vita Più attacco Fanno cose particolari E invece Pin è classicissimo E abbiamo incontrato Pin Classico E Larry Junior Che aveva un colore diverso Se avete visto E ci è arrivato addosso The Belt Che aumenta la velocità È molto utile Molto utile E vediamo qui cosa c'è Ullala Questo vale la pena prenderlo Perché ti leva Un cuore rosso Ma ti dà tre cuori Tre cuori neri E bombe Bombe Quello non lo prendiamo Perché non abbiamo due cuori rossi E andiamo All'altro piano Tranquillamente Sì Vorrei cercare di risolvere Il problema del tic tic Di sottofondo Ma lascerò Comunque Questo microfono Il microfono è buono Se vi dà problemi Abbassate Vi consiglio di abbassare Il volume del Se ci sono ancora problemi Li diciamo Abbassate semplicemente Il volume del Il volume Il volume del computer E sentite meglio O del cellulare Dove cavolo state guardando Questo video Non lo so Magari il computer Perché lo vedete più grande Ma ho visto che molta gente Guarda video del cellulare Io non so come fanno A vedere gameplay sul cellulare Health app Health app Non health app Comunque Colpiamo con i colpi In seguitore E c'è l'altra stanza Del bonus E tante chiavi Vediamo che bonus ci danno Cos'era questo Un pill generator Eh grazie Paralisi La pillola più inutile La utilizzo subito Perché così magari Non sbaglio Di utilizzarla più in là Magari sto lottando Premo per sbaglio La utilizzo E rimango fottuto Perché ci colpiscono i nemici Perché io Sono stato abbastanza stupido Da tenerla E utilizzarla Per sbaglio Appunto Questo è molto utile Contro gli scheletri Perché li puoi colpire Anche senza stare Direttamente sotto di loro Invece no Ci hanno colpito I funghi Facendoli saltare in aria Potete trovare pillole o bonus Eccolo là Questo è I found pills Che ci fa diventare brutti E sembriamo quasi Modo del D'Otterdam Come si chiamava quel film Nella Disney Non lo so Non l'ho mai visto Non mi è mai interessato E praticamente quasi Modo Aveva il cappuccio Ed era brutto Infatti noi siamo diventati brutti Ma non lo notate Semplicemente perché C'ho il cappuccio Appunto Un'altra bomba Interessante Interessante E altri ragni Che sparano dai muri Che sono i più fastidiosi Sono molto fastidiosi Soprattutto se Mi è successo in una run Di avere Un malus Di distanza Dei colpi Quindi non arrivavano Molto lontano E non riuscivo a raggiungere Quei ragnetti E sono stato bloccato A cercare di capire Come colpirli Perché avevo Un piccolo amichetto Di quelli che ti stanno Al lato Per colpire gli avversari E c'avevo quello E l'ho colpito Pian piano Pian piano Pian piano Alla fine l'ho buttato giù Vediamo se riusciamo A raggiungere Quel quarto di dollaro Sì Riusciamo a raggiungere C'era un quarto Solo 5 centesimi E devo comprare qualcosa Sperando ci sia Qualcosa di interessante Questo era Health up No? Health down Abbiamo comprato una cosa inutile E cosa facciamo? Cosa possiamo comprare? Non lo so Comunque io il down Non lo utilizzo Per nulla Vediamo se riusciamo Cosa possiamo comprare Con 12 Quella luna Mi interessa prendere Vediamo se riusciamo A raccimolare Qualche soldino in più Qualche soldino in più Magari una bomba in più Vabbè Avevo solo questo Mi aspettavo chissà cosa Nulla Non vale la pena fare nulla Perché non voglio Spregarmi un cuore nero Per andare nella stanza Che ti magna la vita Con le spine Che quando entri Ti magna la vita E tu entri No Non vale la pena Andarci adesso E non vale la pena Neanche sprecare L'unica bomba Che abbiamo Avevo contro Pip Pip che è fastidioso Perché salta Lascia la pipi a terra Fa tanti attacchi E poi E poi appena Non ha poca vita Vedete cosa fa Non so se l'abbiamo mai incontrato Forse nella boss rush Che ho fatto con Asasel E lascia gli occhi In poche parole Da uno sguardo in giro Mi ero dimenticato Di utilizzare il buco Velial Che fa più danni Eccolo là Lascia l'occhio in giro Che si muove casualmente Noi andando Andando sulla pipi Veniamo danneggiati Non vorrei sbagliare Però mi pare proprio di si Per fortuna Non ha una pattern Così difficile da capire Per darti problemi Il problema è quando Lascia due occhi Appunto Perché quando lascia due occhi Ecco Ti danneggiano Perché non sai più dove andare E Ti danneggi Perché ti colpiscono Tutte le cose Perché non sai più dove andare Come base È molto facile Come un boss Quando inizia a lasciare Gli occhi in giro Uuu La benda Avete visto Abbiamo trovato un sacco Di bonus di vita Adesso vediamo Cosa possiamo prendere qui La luna Non mi ricordo cosa fa Ma la prendiamo Curse up Interessante Non so cosa faccia Non so cosa fa tutto In questo gioco Molte cose si Perché Ogni volta che faccio Una run Non registrata Vado sulla wikia Si saltiamo tutte Le cutscenes Vado sulla wikia E mi informo Su cosa succede E invece No Non lo faccio Mentre sto con voi Perché Per ovvi motivi Non potrei interrompere Ogni volta che trovo Uno strumento Che non conosco Per andare Sulla wikia Se c'è qualcuno Un po' più esperto Me lo dica Tranquillamente Quando non so cosa fa qualcosa Me lo dite nei commenti E impariamo un po' tutti quanti Un cuore che non possiamo raggiungere E cerco Cuore nero Lo voglio Lo voglio Fai saltare in aria E fammi arrivare là Non ci fa arrivare là Voglio quel cuore nero Ne ho bisogno Uuu Anche questi Ci hanno i colpi In seguitore Quelli Le teste fluttuanti E non sono riuscito A spararne nessuno Perché sono un po' troppo veloce Uuu Altre due bombe Dobbiamo provare di nuovo A prendere quel cuore nero Facendo saltare in aria Questa volta Questa parte Magari da qua Così salta in aria E lo riusciamo ad andare da là Lo prendiamo Cuore nero in più E qui accanto c'è Ah Quelle cose che Crescono E recuperano vita Che sono fastidiose Se sono molte E se ci sono i ragnetti Che le fanno spawnare Soprattutto Uuu Lala Ragnetti Ragnetti Ah guarda Facciamo così Giusto per non sprecare Il danno Bonus del cuore nero Colpiamoli Tutti così Siamo sicuri di non Di non morire Di non morire Di non perdere Con il mezzo cuore E li abbiamo buttati giù Tanto riusciamo a ricaricarlo Probabilmente Prima di incontrare La stanza del boss Perché è bene Avere il buco Belial Sempre contro il boss E per questo che è forte È forte Kain Mi pare si chiama Kain No? Perché colpisce Nemici E fa più danni Ai boss Allora qui dentro Prima di tutto Cosa c'è? Uuu Grid Mini boss Mini boss Che spara Con poco per avviso Quelle tre palle Quelle tre palle Quando ci colpisce Ci fanno lasciare soldi Quindi Quindi arriviamo almeno a 15 Ok? Colpiscici un'altra volta Grid Colpiscici un'altra volta Dacci i soldi Dato che Quello fai In poche parole E ci ha colpito Ci lascia i soldi Ci lascia anche altri soldi E una pillola Che cosa fa? Bad trip Ci diminuisce di un cuore La vita massima Grazie 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 Andiamo qua E Uuu Cos'era quella? Summon bobs Riempie la stanza di bombe E non lo utilizzo Perché danneggiano anche me E preferisco il buco belial Di grande E' uno strumento che mi piace Ti fa molti più danni Ti fa diventare le tue lacrime Perché sono stupido? E mi dimentico In questa stanza Ci sono Le punte Questo succede Quando Sei un po' distratto E non ho neanche cuore Da prendere Se ci colpiscono La run Finirà più in fretta Di quanto mi aspettassi Questa pietra E quella pietra marchiata Dovrebbe contenere strumenti No Invece contiene una cassa Che ha Mezzo cuore E altre bombe Ne valsa la pena Uuu Una stanza da prendere Con due chiavi Intanto andiamo di là Andiamo a vedere Cosa c'è In quella cassa Allora Ho capito In questo episodio Come funzionano le rocce Se gli fa esplodere una bomba Crollano nella direzione In cui In cui c'è l'esplosione E qui dentro Due chiavi Per andare qui dentro E ci sono mosche Mi aspettavo chissà cosa Bonus La stanza che ti mescola I bonus Che hai già Magari mi usciva La brimstone Che sì È uno strumento Che mi piace tantissimo Uuu I ragni che saltano in giro E fanno i colpi Circolari Sono fastidiosi Se non si è preparato Uuu Lala Prendiamo Prendiamo Stando attenti A Range up Vale la pena prenderla Sì Ne valsa la pena E adesso prendiamo anche l'altra Sperando di non essere danneggiati Dalle punte Perché Siamo paraplegici Con i comandi Ok Che è I found pills Diventiamo ancora più brutti Cioè Vedete i denti Squadrati Tutti brutti Sfatti Ahia Questi sono Le combo di nemici Che non sopporto Appunto Quelli che spuntano dal suolo E quelli che ci inseguono Dacci un cuore Per favore No Two of hearts Sì Raddoppi i cuori che abbiamo Non i contenitori dei cuori Hood Hollow Proprio se abbiamo Cinque cuori massimi Magari tre cuori Uuu Questo è grigio Due terzi di vita Il doppio dei danni Stiamo attenti a non farci beccare Ne utilizziamo il buco Velial Mi ricordo sempre Mi dimentico sempre Utilizzarlo Prendete Le versioni grigie dei nemici Cosa fanno Hanno meno vita E Un terzo in meno Però Nel momento in cui ti beccano Non volete farvi beccare Perché raddoppiano i danni Di cuori Pentagram Aumenta il danno Ci da il cuore L'attacco rosso E la testa Krampus Che può lasciare Due bonus La sua testa Oppure un altro bonus Che è un po' meno utile La Lamp of Coal Non so cosa voglio dire Coal Lo so Sono bravo in inglese Ma Coal Al momento non me lo ricordo Dovrebbe essere No Non carbone Qualcosa del genere Un minerale del genere Vabbè carbone Non è minerale Vabbè Sì È una roccia Il carbone Head of Krampus Che la teniamo E vi faccio vedere subito Alla prossima Piano Cosa fa Head of Krampus Allora Siamo arrivati Alla Depth Depth Eccolo Eccolo là Una stanza grande In cui vedremo Cosa fa Head of Krampus E un altro De Hollow Un altro De Hollow L'abbiamo appena abbattuto Perché lo incontriamo di nuovo Però almeno Lasciaci qualcosa No? Una bomba Ok Qui qui Cosa c'è? Head of Krampus Quattro raggi Che superano le pietre In tutte le direzioni E che fanno Danni Quattro raggi laser Tipo Azazel Però che arrivano fino in fondo Ahia Non l'avevo vista Mi sono accorto All'ultimo momento Che c'erano le mosche Si mi disano Un po' con lo sfondo Distruggiamole Per sicurezza Perché devo anche Prendere la chiave Stanza delle sfide Se ci sono casse Interessanti Sì Cuore E angioletti Angioletti senza ali Questi ci sono Anche la versione Con le ali Più in là E Sono fastidiosi Quando si teletrasportano Cosa c'è qua? Pillole E quelli che saltano Quelli che saltano Fastidiosi Fastidiosi Comunque ho lasciato il buco Velial Semplicemente perché Questo bonus Fa molti più danni ai boss E comunque Abbiamo già Guardate Prima Prendo questo qua Powerclip Master of Picking Perché abbiamo già Preso Blood of the Martyr Mi pare Fosse quello Lo strumento che abbiamo preso Che aumenta già il danno E ci fa diventare Le lacrime rosse E quindi Meglio Dato che abbiamo già raggiunto Una potenza decente Di fuoco normale Meglio Meglio provare Ad avere Bonus di danno diretto Come questo Appunto E magari qualcosa Per buttare giù Questi più facilmente Range up Ci serviva Speed down Non lo utilizzeremo The tower Quella che fa Fa cadere Uuuu Risatina Ci sono le mani Mamma Che adesso iniziano a cadere dal cielo Eccolo là appunto E cerchiamo di uccidere La prima che salga Di nuovo Ok Chiave che non possiamo Prendere in nessun modo E questi che appena Li uccide possono Possono perdere Mezzo corpo E sono fastidio Senti facciamo saltare in aria Qua Vai la Salta in aria No Però abbiamo trovato Tre carte Tre carte che possono essere utili Questi qua dicevo Quando muoiono Possono diventare più piccoli E sparare cose in giro The sun Cosa faceva? The sun ci curava? Mi pare The hundred man Che ci permette Di prendere quella chiave E poi abbiamo The tower Abbiamo preso il Bonus No? Comunque War Eccolo là Uno dei cavaliere apocalisse Che salta in aria Salta in aria E lascia le bombe E poi ci inizia ad inseguire così E non abbiamo ancora ricaricato il bonus Per La testa di Krampus Avremmo dovuto farlo onestamente Sarebbe stato molto più consigliabile E inizia La cosa fastidiosa di questi Nemici È che iniziano a girare intorno Uscire dalla mappa Rientrare Hai poche possibilità di colpirli Vabbè adesso non si nota Ma ce ne sono alcuni Che vanno proprio in giro E per fortuna L'abbiamo buttato a terra The tower Facciamo cadere Tante bombe E ci hanno colpito anche noi Abbiamo perso Cuori E ha perso lui La sua cavalcatura Succede Succede E poi cade a terra Inizia a correrci incontro Però Siamo riusciti a buttarlo giù Ah Non c'è nessuna stanza per satana Abbiamo le Le bende Le bende Sono utili le bende No Non ci siamo arrivati alla stanza del bonus Corriamoci subito L'avevamo soltanto identificata Identificata grazie a Ah A The Sun E lì c'è un miniboss Però prima di andare al miniboss Andiamo Uh Quelle teste che girano intorno Invincibili Fino a quando non uccide i nemici Sono fastidiose Soprattutto quando i nemici sono quei Quei scheletri Fastidiosissi A te ti odio perché Ti moltiplichi in maniera assurda E questi li odio perché sparano raggi laser Però fino a quando non ne sparano Troppi Ci sono quelli che li sparano anche da dietro Sono fattibili onestamente Sono fattibili Ahia Però almeno li abbiamo avvenenato E almeno c'è Cascato il cuore Ok Questo non lo faccio saltare in aria Vediamo il bonus Il bonus è Chocolate Milk Che fa i colpi caricati E può essere utile No Non può essere utile Preferivo l'altro Anche se questo fa molti più danni Preferivo Il Fireweight Come si suol dire Andiamo a vedere un po' di stanze Ci sono un po' di stanze da fare Però almeno Distrugge I fuochi No Non distrugge i fuochi Dovrebbe distruggere di più I boss E' utile contro i boss questo Ok Stanza segreta Che ha Soldi Soldi Adesso dobbiamo andare per forza al negozio C'è Gli attacchi caricati Non mi ispirano Devo essere onesto Anche se Vedete Fanno danni Fanno danni Devo Devo essere onesto Sono forti nel momento in cui Hai una Hai molto Velocità d'attacco E con il sangue per terra Che mi frega sempre Perché se hai molto Velocità d'attacco Si caricano in fretta Oppure puoi sempre fare così Colpi leggeri Senza caricarlo Oppure Colpi così Caricando Un poco E hai un fire rate decente Perché sono più veloci E io non me ne rendo conto E mi vengono addosso E mi fanno danni Aia Sono un problema Questi nemici Avrei dovuto avere Lead of Krampus Per non avere problemi Contro loro Eccola Ci sei morto Ci sei morto Mi dispiace E abbiamo un solo cuore Sperando di recuperarlo Prima di cascare In altre trappolozze Muoreci Muoreci tantissimo Ok Adesso Niente lasciato Però possiamo andare qui dentro E c'è Prendiamo il cuore Prendiamo la candela Che cosa fa Curse immunity Di più evil up Ci dà il cuore Il cuore nero Che è utile Prendiamo un'altra chiave Sì Ne vale la pena Ne vale la pena E andiamo a cercare Vediamo cosa c'è qui sotto Intanto Una stanza grande Una stanza grande Con Gente che salta E non gradisco La gente che salta Non la gradisco Per niente Ci salta addosso Soprattutto E salta Noi andiamo per forza Sulle macchie di sangue Che mi dimentico sempre Della loro esistenza Fastidioso Molto fastidioso Però adesso abbiamo La testa di Krampus Testa di Non di Campus Di Krampus Possiamo andare A vedere un po' Com'è il mini boss La cacca grande Che non la sopporto Perché fa le cacche piccole E le cacche piccole Ti inseguono Però possiamo anche colpirlo così Hai visto? È utile Quando volete Distruggere in fretta Come si dice Le cacche I fuochi E questo lascia Bombe in giro Distrugge Distrugge Lo scenario da solo E si fa saltare in aria da solo E per fortuna Non ci siamo fatti colpire Ci ha lasciato due bombe da fare Ora possiamo andare Tranquillamente Al prossimo piano In tutta tranquillità Perché abbiamo pulito un po' tutto Abbiamo preso un po' tutto C'è un bonus Che trasforma Uh Peterfile Poop Questo cosa faceva? Master of Lockhiking No Meglio Predified Poop Cosa fa? Aumenta il drop rate Dalle cacche Avete visto? Cuori Monete Droppano un sacco di cose Ed è molto utile Soprattutto ai livelli dove c'è molta cacca È brutto da dire Molto brutto Estremamente brutto da dire E Può capitare Che ti capitano Cuori Soldi Non chiavi Solo cuori e soldi Eccolo là Dal caminetto Andiamo al prossimo piano Volete? E prendiamo il cuore Che ci serve Ci serve molto Dato che ne abbiamo soltanto tre Di solito a questi Questi piani Ne hai molti di cuori Ne hai tanti Depths Uhlala Questo però Abbiamo Il colpo caricato Che ce lo fa buttare giù Un colpo Andiamo qui dentro Anche se so che non dovremmo sprecare le chiavi Cosa abbiamo? Un'altra chiave appunto L'abbiamo già recuperata Cuori E Matrioske Eternity Eternity Come funziona L'Eternity Praticamente Se riusciamo a portarcelo fino al prossimo piano Ci dà ancora Un contenitore di cuore rosso In più Ah Colpito Fregato Sapevo dove sareste atterrato E su un altro colpo Ce lo sprechiamo Aia Questa è una delle stanze Una stanza del tipo Di quelle che ci avevano fatto perdere Un po' di tempo fa Però almeno adesso Torpiamo cuori Quando moriamo Ok Uno giù Uno giù No Un altro giù Un altro giù No Non l'abbiamo colpito Non siamo riusciti a colpirlo Di preciso da dietro What a horrible night To have a curse Ah La maledizione Quando scendiamo sotto il cuore Aumenta il danno Però Non volevo utilizzarlo Qui dentro Sono stato costretto Perché ho difficoltà Da affrontare questi Quando ci sono Potrei usare la testa di Grampus Me ne sono ricordato adesso Aia Questi ti saltano addosso E ci sono le mosche Che esplodono Eliminiamole tutte Il primo possibile Ok Mosca Mosca Uccisa Ok Un'altra bomba che esplode Ma non ci interessa Ok Vabbè Fottetevi tutti quanti Ok Fottetevi tutti quanti Prendi So già dove vai Travittoria trovata Presola Altri cuori Ci servivano E qui dentro Super grid L'ultima cosa che mi serviva Era un altro boss Mi servivano bonus a me Non boss Aia Però almeno Contro questo tipo di boss È molto utile Per esempio Questo Attacco caricato Perché non devi colpire Molte volte Carichi Mentre vadi E poi lo colpisci una volta Abbiamo molti soldi adesso E zero chiavi E sono preoccupato Perché magari la stanza del bonus Di questo piano È una In cui ti servono le chiavi Spero di E invece sì È una di quelle In cui ti servono le chiavi Però proviamo a trovarne una Per favore Faccele trovare una Eccola là A proposito Facciamo saltare Questo perché il mio sangue Non te lo do E ci dà altre monetine Stanza del bonus Cosa c'è? Temporary Invincibility No Non Non mi piace Non mi piace per niente Preferisco il danno Devo essere onesto Aia Aia Mi sono lasciato Prendere alla sprovvista Dal fatto di aver visto Tanti ragni insieme Ok Evitato Qui dentro cosa c'è? Bombe trollone Bombe trollone Maledette Speravo un cuore Questo però È utile contro questi qua Perché vedete Si avvicinano Colpisci Quelli verdi Quelli verdi hanno Il doppio di vita E lasciano Lasciano una traccia Di veleno E adesso vorrei avere Tanto Il bonus La head of crampus Maledizione Perché sono paraplegico Gli ho Homing shot Da quando ce l'abbiamo? Da quando ce l'abbiamo? Scusate No Infatti non ce l'abbiamo Ero io che mi muovevo Ero io che mi muovevo E sono stupido No Invece ce l'abbiamo davvero Da quando ce l'abbiamo? Mi sono perso qualcosa? Vabbè Tanto meglio Oppure ce l'abbiamo sempre avuti E mi io me lo so Sì ce l'abbiamo sempre avuti Io me l'avrò dimenticato Perché avevo Iniziato ad essere abituato Ai colpi diretti Perché sono stupido? Ecco questi qua Che non possono fare niente No Non possono fare niente Perché noi li uccidiamo tutti così Avremmo dovuto far saltare in aria queste Per arrivarci Però E si sarebbero diventati invisibili E molto fastidiosi Però Siamo riusciti a gestire La Perché mi dimentico Che abbiamo il bonus? Uh Dell'overs Ti danno Ti da due cuori rossi Potrebbe essere utile Ah Là ci arriviamo No Ma l'abbiamo già trovata La stanza La stanza dei bonus Sì l'abbiamo trovata Perché sono stupido Mi inizio a dimenticare le cose Se ti dimentichi Se hai già trovato delle stanze O no In questo gioco È molto Molto normale Dimenticarsene Qui c'è un segno a terra Non è niente di sicuro Però È un'abitudine Di far saltare in aria le rocce Con quei segni Faccio saltare in aria anche il pavimento Con quei segni Anche se non c'è nulla Non c'è proprio nulla Ok Boss Che è Mamma A quella parte Perché ci serve Spazio di movimento Ci serve molto spazio di movimento Soprattutto nell'angolo Almeno un angolo Per muoverci Ne abbiamo bisogno Ok Colpiti Si para con I suoi amichetti Usiamo i The Lovers Nel momento in cui Uh grazie La cosa che ci gira intorno Danneggia I nemici Quando li tocca Ed è molto utile Soprattutto quando ne hai due O più Perché ci sono più Più cose che hanno questo bonus Più bonus che hanno questo effetto Perché dico Cose Per esempio c'è La Ball of Meat Che ti gira intorno E poi si trasforma Di solito si trasformano Poi c'è l'Attack Fly Che è più bella What a horrible night To have a curse E dammi cuore Eh per fortuna Almeno adesso abbiamo Più potenziale offensivo E lo buttiamo giù No mi sono dimenticato Non sono riuscito a prendere il bonus Perché mi ha mandato subito Nell'utero